La mattina presso ci troviamo con l'ultima volta al fondo. Quasi non si spara più. Quello è finito. Tra un'ora partireste. Non occorrerà ritornare attualmente. Quando ce ne andremo, ce ne andremo per sempre. Distruggiamo quel tanto che si può distruggere. Un paio di ricordi. E questi gialli limoni che guardo amorosamente risplendere sul mio nero comodino di ferro vicino al guanciato. Oggi è 16 novembre 2014, siamo nell'auditorium dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e Donto Iatri della provincia di Torino dove sta per iniziare lo spettacolo teatrale Voci nel vento di guerra che è una lettura fatta dal teatro instabile delle gambe sotto il tavolo. Con noi c'è l'autore di questa scelta, di questa antologia. Qual è il suo nome? Ezio Beccaria, sono un medico e faccio parte quindi dell'Ordine dei Medici. Nell'occasione di questa inaugurazione ci è stato chiesto di fare uno spettacolo e saremo tutti medici a presentare questa lettura. Come nasce questa compagnia di lettori e come nasce poi l'idea? Allora la compagnia nasce da molti anni, io sono più di 40 anni che faccio teatro. Le letture sono delle antologie tratte da romanzi oppure letture di poesie con un certo argomento e ne abbiamo fatti sugli autori sudamericani, gli argentini, i cileni e via dicendo. Questa è una di queste raccolte che sono state fatte e nell'occasione del centenario della Grande Guerra si è pensata di proporla per l'Ordine dei Medici che ci aveva chiesto di fare qualcosetta. C'è soltanto la ricorrenza o c'è qualche motivo in più nella scelta delle letture che riguardano narrazioni di guerra? No, la cosa è nata indipendentemente dal centenario, indipendentemente dall'occasione in cui viene proposta. Era semplicemente un mettere insieme delle letture su questo argomento perché interessava, nel caso interessava a me che ho fatto la cosa e anche le musiche che vengono ad accompagnare la lettura e le immagini sono tutte collegate a questo argomento. Ma nasce così da un'idea... Da un'idea drammaturgica diciamo. Con noi c'è anche il dottor Guido Regis che è tesoriere dell'Ordine e che non siamo abituati a vederlo nella vesta di lettori di testi narrativi anche di grande prestigio. Come nasce questa sua passione? Ma è nata dall'incontro con Ezio e con il regista che conoscevo sin dai tempi del liceo, il regista di questo spettacolo che è Luca Pivano, con i quali ho condiviso un percorso molti anni fa di recitazione, ho partecipato con loro ad alcune performance dopo aver fatto una scuola di recitazione e poi mi sono staccato per motivi di lavoro e famiglia, sono ormai dieci anni che non recito più e questa volta visto che c'era questa esigenza di fare uno spettacolo per l'inaugurazione di Villa Rabi io li ho contattati e loro mi hanno ricattato in sostanza, mi hanno detto se vuoi che veniamo tu devi almeno fare una parte con noi e quindi adesso sono in questa condizione che devo riprovarci. Come riesce a far collimare la professione di medico con questo hobby molto evoluto? Si riesce perché comunque questo occupa in linea di massimo una sera alla settimana di prove e poi ovviamente quando ci sono gli spettacoli si ravvicinano un pochino le prove, però si riesce abbastanza bene a far coincidere le due cose, farle vivere insieme senza grossi problemi. Quali punti di contatto ci sono tra il teatro, la recitazione e la professione di medico secondo lei? Ma intanto sei sempre il solito che mi fa le domande a bruciapelo, però insomma cerco di risponderti. Io penso che ci siano dei punti di contatto e forse io li ho trovati anche in questo, nel senso che io ho cercato di fare la scuola di recitazione anche per innanzitutto trovare la capacità in me di vincere alcune timidezze. E questo penso che possa essere una componente importante per un medico, perché un medico comunque deve affrontare situazioni anche di coinvolgimento emotivo nei quali deve forse un pochino saper recitare una parte, non farsi coinvolgere troppo in momenti particolari o saper dosare praticamente il proprio coinvolgimento. E quindi questo penso che possa essere il punto di unione tra una situazione teatrale, una situazione di recitazione e la nostra professione. Lei che cosa fa in ambito medico? Io sono cardiologo. Ecco, si sente tanto in parlare di medicina narrativa, eccetera, eccetera. Le due, questa esperienza, l'aiuta, diciamo così, nell'instaurare l'apporto medico-paziente, c'è qualche attinenza immagino? Sinceramente non ne vedo molte, ecco, sono due cose un po' parallele, poi per carità, si può coinvolgere a volte il paziente nel senso che ti viene a vedere quando si instaura un rapporto un pochino più di confidenza, di amicizia, al di là di quello, sinceramente sono due campi abbastanza paralleli e non particolarmente convergenti, ecco, secondo me. Lei quando ha iniziato a occuparsi di teatro dal punto di vista, diciamo così, di hobby? Nel 72, quindi sono 42 anni fa. Ero studente. Quindi studenti di medicina già? Sì, sì, sì. Facevo il terzo anno, credo, sì. Terzo anno di medicina. L'ultima domanda che volevo fare alla segretaria dell'Ordine. Questa esperienza in qualche modo l'ha aiutata a superare le difficoltà che lei ci ha accennato e l'ha cambiata in qualche modo? Beh, sì, il periodo in cui ho fatto più intensamente recitazione, sì, è servito molto, mi ha dato molto. Devo dire che onestamente anche riprendere in questi giorni mi ha riavvicinato a delle sensazioni, anche al pensiero di potervi dedicare a qualcosa di diverso dalla semplice routine e soprattutto ad argomenti culturali di un certo peso, ecco, questo sì. L'ultima domanda che facciamo a lei. Come mai si sa così poco delle passioni dei medici extra-medico-sanitari? Soprattutto qua a Torino. Non ne ho proprio idea, probabilmente, perché i torinesi in genere, forse anche i medici, non amano esprimere, mettere fuori le proprie idee, le proprie passioni. Sono un po' chiusi anche in quello, penso. Preferiscono il fare al dire di fare. Esattamente, esattamente. Anche se nel suo caso le due cose potrebbero coincidere. Potrebbero coincidere, certo. Ok, grazie. Grazie. Buona bocca al lupo. Grazie. Sono un soldato e non mi importa di combattere, non mi importa. Mi diceva rivelandomi sinceramente i suoi pensieri. Non mi dispiace rischiare di morire per il mio paese e il mio mestiere. Però la guerra che noi stiamo facendo qui, in questo momento, signor Tenente, ho un bel pensarci su, ma non riesco a considerarla onesta. Non è una guerra regolare dove c'è un fronte di battaglia e si sfida il nemico in un combattimento diretto e decisivo. Noi avanziamo e il nemico fugge senza quasi combattere. Grazie. Grazie.